Grazie a tutti. 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 I riflettori dell'Unione Europea sempre nella Commissione Europea era ancora meglio. Perché come detto prima c'è il pericolo degli aiuti di Stato e poi perché è un bando anche abbastanza sconclusionato. Basta immaginare che uno degli elementi per quantificare le risorse da dare alle compagnie è quello relativo ai passeggeri che arrivano negli aeroporti nel periodo di spalla. quindi nella bassa stagione, questi passeggeri nei periodi di spalla sono per lo più residenti, quindi noi rischiamo di pagare per i residenti e ancora ci sono delle rotte, per esempio quella di Venezia fatta da Volotea ad Alghero, che sono già praticate da altre compagnie, come vengono calcolati questi passeggeri che già sono stati fidelizzati e continuano ad arrivare ad Alghero, come si fa a calcolarli? Insomma mi pare che complessionalmente sia un bando che presenta grosse problematicità, grosse criticità e che rischia di essere posto sotto i riflettori della Commissione Europea. Nel intervista abbiamo parlato anche della situazione politica cittadina, si guarda inevitabilmente al congresso del Partito Democratico che si terrà domani e che potrebbe essere decisivo per il futuro della Consigliatura. Appuntamento per i vecchi tesserati e per quelli nuovi domani alle 10.30 nella sede di Via Mazzini dove verrà celebrato il congresso cittadino del Partito Democratico. Se ne è parlato ampiamente nelle ultime settimane con Mario Bruno che ha indicato il PD come ago della bilancia. La situazione è ormai ben nota a tutti, c'è una fetta del partito che vorrebbe stringere un patto con il sindaco per consentire di mantenere la fascia tricolore e tra questi c'è il capogruppo Mimmo Pirisi. Dall'altra c'è la corrente che fa riferimento invece a Enrico Daga che in linea con il risultato elettorale vorrebbe che il PD restasse tra i banchi dell'opposizione. Ma c'è anche chi è convinto che il congresso di domani non sarà determinante per il futuro della Consigliatura con le divisioni che potrebbero restare tali e Pirisi e Nasone, quest'ultimo improncinto di entrare proprio nel PD pronti a sostenere ancora Bruno. A quel punto scatterebbe il toto assessore con le prime ipotesi che iniziano già a circolare come quella di un ritorno di Gabriele Esposito al turismo e alla cultura e di Marisa Castellini ai servizi sociali. Per ora solo supposizioni anche perché l'esito del congresso è tutt'altro che scontato. Ci fermiamo per una prima pausa pubblicitaria. Al via la riorganizzazione della circolazione della sosta nel quartiere di Sant'Agostino come più volte emerso in serie di confronto con il comitato di quartiere l'amministrazione ha rilevato che molte vie si verificano spesso rallentamenti e intralci alla circolazione originati prevalentemente dalla sosta di veicoli su ambo i lati della carreggiata. La soluzione condivisa è quella che prevede per il flusso di traffico attualmente interessante le vie oggetto dell'intervento e l'istituzione di un senso unico di marcia la soluzione più idonea ed efficace per migliorare il transito in sicurezza dei veicoli e dei pedoni. L'assessore alla viabilità e traffico Raimondo Cacciotto e il comando di polizia locale mettono in atto dunque un cambiamento di rotta nelle vie Matteotti, Marongiu, Giolitti, Dosturzo, Rossi, Fratelli Rosselli, Palomba nel tratto compreso tra via Porrino e via Matteotti, Taragona e Rockefeller nel tratto compreso tra via Nazioni Unite e via Matteotti, Nazioni Unite nel tratto compreso tra via Palomba e via Giovanni XXIII, Crispi nel tratto compreso tra via Palomba e via Rockefeller, Rina de Liguoro nel tratto compreso tra via Taragona e via Rockefeller, attualmente strade a doppio senso di circolazione veicolare con sosta consentita su ambo i lati per allenamenti all'asse longitudinale della carreggiata. I lavori eseguiti dalla società in house con il coordinamento della polizia locale sono iniziati da via Giolitti, come avete potuto vedere anche dalle immagini realizzate proprio questa mattina, quindi come ha detto in tutte queste vie citate verrà istituito il senso unico di marcia. Parliamo di sport ora legato però al contesto cittadino e al problema delle strutture, lo facciamo con il maestro del judo club Alghero, Gavino Piredda, che tra l'altro è il presidente regionale della Filcam, perché Olbia di recente ha ospitato il campionato mondiale veteran seccata di judo, un'occasione persa per Alghero, così come molte altre. Adesso abbiamo parlato dei campionati del mondo che si sono svolti a Olbia, possiamo dire restere al marico per il fatto che Alghero non possa ospitare eventi di tale portata? Ma Alghero non può ospitare eventi di tale portata per una sola ragione, chiaramente non per la ragione geografica della città, perché è una bellissima città, anzi io la reputo la città più bella del mondo e più vivibile al mondo, ma perché non ci sono strutture, i nostri politici non hanno mai pensato che la lungimiranza è una capacità importante per noi, ma loro evidentemente non ce l'hanno, ma non per criticare nessuno per carità, magari si pensa ad altre cose importanti, ma costruire una struttura sportiva degna della città di Alghero, degna degli sportivi di Alghero, perché ci sono decine di società che operano in tutti i settori, in tutte le specialità sportive, ma nessuno ha la possibilità di ospitare un torneo, un campionato del mondo, di europeo, un campionato italiano, per poter attirare l'attenzione degli sportivi stranieri anche di tutto il mondo a conoscere la città di Alghero, che è una bellissima città. Quindi non abbiamo una struttura, non possiamo ospitare manifestazioni ad altissimo livello. Siamo andati ad Olbia perché Olbia offre una struttura eccezionale che è la Geo Village, all'interno del quale oltre a 280 camere che ha, quindi può ospitare 300-400 persone, poi ha una struttura, un palazzetto dello sport all'interno della struttura stessa, che può ospitare qualsiasi manifestazione tra queste e il campionato del mondo. Il campionato del mondo che ha ospitato, abbiamo accreditato 1.400 atleti, solo atleti che hanno gareggiato nell'arco di 10 giorni, con un flusso di parenti, amici, conoscenti, tecnici, arbitri da tutto il mondo. C'era un movimento di gente per 10 giorni ed è grande importanza per la città di Olbia, tant'è vero che hanno sospeso la chiusura di molte attività commerciali per continuare per altri 10 giorni un'attività degna appunto del posto, cioè del posto turistico. Questo a noi, io sinceramente sono molto dispiaciuto di questo, ma d'altronde la mia attività e la mia passione mi porta lontano e lontano siamo andati nel 2002 a organizzare un campionato italiano a quarto Sant'Elena perché non avevamo la possibilità di farlo qua. Abbiamo organizzato i campionati europei l'anno scorso e siamo andati a Olbia perché qua non ce l'avevamo la possibilità. Abbiamo sospeso un torneo internazionale femminile che io organizzavo per 20 anni e l'abbiamo sospeso perché ormai la struttura faticente, che appunto è faticente la struttura della cunetta, non era più in grado di poter ospitare atleti stranieri perché noi ci facevamo una meschina figura. E questo mi dispiace dirlo che non si pensa in questa direzione che è una direzione importantissima perché lo sport porta turismo, il turismo porta economia e non sono io qui a dirlo e ad insegnarlo a nessuno per carità. Però questa è la realtà di oggi. Lo sport se è tenuto conto delle strutture si può fare molto di più di quello che si è fatto fino ad oggi. Nello sport parleremo più avanti nel nostro telegiornale. Ora spazio alla cultura, all'arte. Siamo andati nella Torre di Portaterra dove è in corso la mostra di Salvatore Soggiu. Ne ha parlato i nostri microfoni, lo stesso artista. Salvatore Soggiu, nato qui ad Alghero, nel lontano 42. Ho preso vari lavori che ho fatto nell'arco degli anni. Ho ripreso gli studi, diplomandomi in qualità di maestro d'arte. Avevo la passione della pittura e così nel tempo, negli anni, diciamo dagli anni 60, ho iniziato a presentarmi al pubblico di Alghero e non solo, ma un po' in tutta Europa, facendo delle esposizioni di mostre. Anzi adesso che ben mi ricordo, negli anni dopo 60, ho ricordo di aver inaugurato proprio qui alla Torre Portaterra una mia personale. E poi a distanza degli anni sono ritornato qualche altra volta e ancora oggi sono qui. Che altro dire? I miei quadri, non so se li conoscete, sono quadri del tipo, diciamo, espressionista, soprattutto per la rapidità del segno che ne caratterizzano i quadri. Per quanto riguarda le mie tematiche, un po' tutte, partendo dal paesaggio, temi di compositivi, di fiori e altre, prediligo soprattutto la figura in nudo, che qui ne troverete un certo numero di quadri. Ora mi auspico che questa mia mostra sia vista da maggior numero di persone, perché anche se siamo fuori stagione, diciamo che la gente ormai ha preso già il volo per quanto riguarda la visita che solitamente fanno nei mesi, soprattutto nelle stagioni estivi. Ad ogni modo, io mi auguro che ancora oggi, per quanto riguarda ancora pochi giorni che terrò questa mostra, sia ancora visitata. E oggi alle 18 al Teatro Civico, appuntamento con il convegno Sessualità e Cancro organizzato dall'Associazione di Oncoematologia Mariangela Pinaollus. Con questo incontro con la popolazione, l'Associazione, grazie all'intervento di medici oncologi e psicologi psicoterapeuti, si prefigge di fornire informazioni che spieghino che cosa può succedere nella sfera sessuale, sia a livello fisico che psicologico, in conseguenza di un tumore e dei relativi trattamenti. In tal modo si spera di aiutare la persona affetta da queste problematiche a comprendere sia le cause che i possibili rimedi medici e psicologici per l'individuo e per la coppia, occupandosi di problematiche così importanti quelle della compromissione della propria sessualità. Al convegno di questo pomeriggio interverranno il Presidente dell'Associazione di Oncoematologia, il Dottor Antonio Contu, l'oncologo Dottor Giovanni Baldino, le psicologhe e psicoterapeute dell'Associazione Eleonora Piredda e Giovanna Molozzo. Ci fermiamo ancora per qualche istante. Festa in piazza per celebrare i primi 5 anni di attività dell'Associazione Fuori di Zampa. Questa domenica l'Associazione di Volontariato Animalista spegnerà 5 candeline e lo farà pubblicamente in piazza dei mercati. Alle 15.30 si svolgerà una sfilata canina, i quattro zampe si contenderanno numerosi premi alla fascia del più bello e del più abile sotto gli occhi attenti di una commissione costituita da baby giurati. Per tutto il pomeriggio i bambini saranno coinvolti in un laboratorio con attività ludico-creative a tema cinofilo. Anche questo è un modo per far sensibilizzazione, seminare un'educazione al rispetto degli animali tra le nuove generazioni. Le iscrizioni alla sfilata e ai laboratori si raccoglieranno sul posto a partire dalle 14. Il pomeriggio culminerà con il taglio della torta che sarà offerto a tutti i partecipanti. Sarà presente anche il banchetto dell'Associazione con i gadget creati dalle volontarie e sarà possibile prenotare una copia del tradizionale calendario fuori di Zampa in uscita. I fondi raccolti saranno utilizzati come sempre per la cura di randaggi con particolare attenzione agli interventi veterinari straordinari dei cani rinchiusi nel canile di Alghero e per portare avanti campagne di adozione e sensibilizzazione. E ci avviciniamo a un weekend sportivo ricco di appuntamenti, uno di questi è in programma domani alle 14.30 nel campo di Maria Pia con l'amatore rugby Alghero che ospiterà il Lecco per la quarta giornata del campionato di Serie B. Ha presentato la partita ma anche la nuova maglia all'elenatore Marco Anversa. Domani alle 14.30 anticipo a Maria Pia, si gioca contro l'Ecco, obiettivo riscatto. Obiettivo riscatto, hai detto giusto, siamo inciampati domenica scorsa comunque contro una grande squadra, molto fisica e molto determinata a casa loro. Abbiamo intenzione di riportare a casa punti che saranno fondamentali per la classifica. Come ha lavorato la squadra in settimana? Ci siamo allenati sia martedì, mercoledì e giovedì, nonostante avessimo un giorno in meno di recupero e abbiamo scelto di tenere cinque allenamenti. Oggi sarà riposo e domani saremo pronti per il grande appuntamento. Un campionato duro comunque questo di Serie B? Sicuramente, sicuramente è duro perché abbiamo qualche giocatore di esperienza che comunque è veramente di esperienza, passi 30 anni, quindi magari i giorni di recupero sarebbero fondamentali. E i giovani invece hanno tanto bisogno di lavorare, ci manca giusto quei ragazzi nell'intermezzo, i maturi, i 27-28. Ci stiamo lavorando, comunque abbiamo creato una buona amalgama, siamo pronti, siamo pronti per questo campionato. Amatori che giocherà con la nuova maglia che tu indossa adesso? Sì, veramente bellissima, sono rimasto molto stupito in settimana quando l'abbiamo vista e è una bella sorpresa per tutti, sarà un incentivo in più. Invitiamo la Raglia Algheresi a sostenere l'Amatori anche domani. Vi aspettiamo domani alle due e mezza al nostro campo, casa nostra, Maria Pia. E questa sera invece alle 18.45 nella sala mosaico della Fondazione Meta si terrà la conferenza stampa nella quale il PGS provinciale presenterà l'anno sportivo Master Series 2017-2018 e premierà sia le squadre che hanno vinto nelle diverse competizioni nella stagione 2016-2017 sia quelle che hanno conquistato il Master Cup nel calcio a 8 e nel calcio a 5, in questo ultimo caso la Futsal Alghero che ha battuto ai rigori l'Audax Algherese. Per quanto riguarda la nuova stagione, partecipazione record con ben 30 team impegnati tra le varie competizioni e categorie con un indotto stimato di circa 500 atleti accompagnatori. Il circuito si prepara a varcare i confini locali e la dirigenza sta mettendo sul tavolo tutta una serie di situazioni e eventi con lo scopo di dar corpo e sostanza un progetto ormai da tempo nel cassetto, ovvero il lancio stabilizzato e coordinato del turismo ludico sportivo nel nostro territorio. Segmento che a recenti ricerche danno assolutamente fuori da situazioni legate alla contrazione del mercato turistico, anzi con punte di crescita percentuali a doppia cifra nel mercato turistico. E per oggi è tutto, noi ci rivediamo domani, grazie per essere stati con noi e arrivederci.